Musica Ci troviamo oggi a Massa Lubrenze, ci troviamo all'interno del ristorante La Torre, Siamo in compagnia di Amelia, che chiamo qui a fianco a me, la figlia del ormai famosissimo per il suo One Fire. Perché One Fire? One Fire è un detto di mio padre, in pratica all'inizio stavamo qui alla Torre, c'era questo piccolo terrazzino, c'era solo il terrazzino, chiedemmo l'affitto al comune, del suolo pubblico, e il primo sabato eravamo pienissimi di gente, c'era questo tavolo di americani e papà stava gli scherzando con questi americani e disse questa battuta, c'è la One Fire. Allora c'erano un sacco di clienti, alcuni clienti che venivano spesso qui da noi a mangiare, ogni volta che venivano prendevano in giro a mio padre, e facciano la One Fire, la One Fire, e da lì è diventato un modo di dire del locale. Infatti molto spesso i clienti quando vengono non dicono andiamo a mangiare alla Torre, andiamo a mangiare da One Fire, One Fire First Class, un fuoco di prima classe. Un fuoco di prima classe, infatti adesso andiamo a trovare, dove si porta? Andiamo da là? Adesso porto dalla regina della Torre, da mia mamma Maria. E oggi siamo qui in vostra compagnia, vogliamo agli amici a casa una ricetta nuova, una ricetta diversa, una ricetta a base di pesce oggi vedo. A base di pesce, una ricetta semplice che possono fare benissimo a casa. Allora facciamo i paccheri di Gragnano con il ragù di ricciola, allora prendiamo la ricciola, un trancio di ricciola bello fresco, lo tagliamo a dadini, poi mettiamo l'olio in padella con l'aglio e il peperoncino, mettiamo non il prezzemolo tagliato così, i gambi di prezzemolo e un po' di pomodorini. Sfumiamo con il vino e poi quando è cotta la pasta ce la mettiamo dentro, lo finiamo di cuocere al dente, perché la pasta deve avere l'anima bianca. Questa è una cosa particolare che difficilmente io vedo nelle altre cucine, quello di aggiungere i gambi di prezzemolo, perché? Perché sono più saporiti, il buono sta nei gambi, non nelle foglie. Abbiamo scoperto un'altra cosa amici da casa, è che il profumo, il sapore scarica di più nei gambi, ma non nelle foglie. Poi dopo abbiamo aggiunto prima la ricciola e poi il pomodorino fresco. Abbiamo sfumato con un po' di vino bianco e adesso aspettiamo che la pasta è pronta ed eccoci qua. Eccoci qua, io vado a assaggiarli questi... Questa è la ricetta della settimana, questi paccheri di Gragnano con la ricciola e il pomodorino del pienolo. Noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi, ringraziamo Amelia, ringraziamo la signora Maria per averci ospitato qui oggi per la ricetta della settimana con Vittorio Imperati a Massa Lubrenza e dalla One Fire La Torre. Grazie a tutti.